buongiorno a tutti amici pescatori oggi domenica 15 novembre ci dedichiamo ancora alla canna fissa il sole sta quasi per sorgere ecco qua la prima preta la prima preta neanche il tempo di dirvi buongiorno alla prima calata abbocca subito un piccolo scorfano che ora lo andiamo a liberare torna quando sarà più grande e noi continuiamo la nostra pescata dato le temperature ancora alte ci dedichiamo alla canna fissa questa è la mia linea f artistic pole da sette metri e come esca stiamo usando il coreano sono circa le sei e un quarto del mattino sono circa le sei e un quarto del mattino quella barca sta alzando le reti ma a noi con la fissa non ci disturba c'è un mare stupendo oggi l'acqua ancora è calda un'altra preta che si è slamata da sola era piccolina oggi sono senza cameraman se è addormentato perciò dovrò fare le riprese da solo sono circa le sei e un'altra Un altro scorfanetto che adesso andremo a liberare, ecco qua l'abbiamo slamato, torna quando sarà più grande e noi continuiamo la nostra pescata. Vedere l'alba è sempre qualcosa di spettacolare. Quello sta alzando le reti, pesce in canna, un altro scorfono. Un altro scorfono. Altro rilascio ragazzi, ragazzi un tordo che ha deciso di liberarsi da solo, un piccolo tordo, dai rilascio. Anche una piccola castagnola mi è venuta a trovare, ora la rilasciamo. Cattura prima doppietta, una donzella e un'altra castagnola che ora andremo a liberare. Ragazzi, finalmente una cattura interessante è arrivata. Un bellissimo esemplare di pesce pappagallo. Un zarago sparlotto mi è venuto a fare visita. Ciao ciao. Ragazzi, anche due bellissime boghe mi sono venute a trovare. Cattura doppia, doppietta. Ragazzi, la pescata si è conclusa. Abbiamo preso soltanto questi due bellissimi esemplari di pesce pappagallo. Spero che il video vi sia piaciuto. vi lascio a queste splendide immagini del fondo marino su cui ho pescato. Ragazzi, al prossimo video. Ciao ciao. Ciao.